Se bello vuoi apparire, in scena devi farti sentire, in qualità e quantità, se ne hai nel tuo DNA. Crescita divulgata in uomo folle, con la sua scrittrice popolare, amica penna, seguendo la trama della vita, che la natura ha creato intramutamento e cambiamento, la creatività personale. Domo ma popolare, Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, ordinarietà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.